Buongiorno, nel Vangelo di oggi, versetti dal 12 al 15 del capitolo 16 di Giovanni, cogliamo la descrizione della delicatezza di Dio che nell'opera dello Spirito Santo ha cura di ciascuno di noi, della sua creatura prediletta, il nostro essere uomini, in modo da non caricarci di un peso eccessivo con quello che Egli vuole confidarci e consegnarci. Dio che si è fatto nostro amico e l'amicizia è fatta di reciprocità, sa che nella nostra piccolezza, per quanto noi possiamo crederci grandi o bravi, in realtà non siamo capaci di portare il peso di tante cose che sono nel cuore di Dio, che possono essere anche preoccupazioni legate a come va il mondo e al suo desiderio di salvezza per tutti che viene rifiutato e negato a tanti. Ebbene, Dio ci preserva dal dover farci carico di tanta sofferenza e dolore che invece soffiano nel suo cuore tanto attento alla necessità di bene di ogni creatura. Lo Spirito Santo che ci viene donato allora, Spirito di verità, è uno Spirito che rispetta i processi, il cammino progressivo del nostro crescere e ci dona a se stesso e con se stesso tutta la Trinità, ma nella misura in cui siamo in grado di coglierne la presenza e di accoglierne la confidenza dentro la nostra piccolezza di creatore. Dobbiamo fare tesoro anche noi di questo stile rispettoso e paziente di Dio. Tante volte possiamo affrontare la vita, infatti, con la presunzione di essere capaci di portare tutti i pesi, di farci carico da soli dalle cose, oppure, al contrario, scarichiamo sugli altri aspettative, attese, desideri, pretese, a volte come se dovessero essere la nostra immagine e somiglianza e assecondare tutti i nostri interessi. La delicatezza di Dio deve diventare anche la nostra delicatezza, verso noi stessi e verso gli altri, consapevoli che la vita è un processo fatto di tappe, in cui si matura un passo alla volta, e che la fatica è quella di coglierne dove l'altro sta, per rispettarne il ritmo, i tempi e i passaggi di crescita. Ecco allora che l'annuncio che lo Spirito fa di tutto quello che il Padre ha consegnato a lui e al figlio per noi diventa da stimolo, per non aver paura di confidare noi stessi, di consegnarci, ma per imparare anche a farlo nella misura in cui ogni relazione lo permette ed è giusto farlo. Non possiamo pretendere di andare oltre alcuni confini, alcuni limiti. Sarebbe a volte un manipolare, addirittura quasi un abusare di chi abbiamo davanti. Non possiamo neanche pretendere che noi stessi siamo in grado di portare tutto, ma se riconosciamo l'opera di Dio e il suo stile, così attento e premuroso, possiamo imparare anche noi ad essere rispettosi, soprattutto dei più fragili, dei più deboli, dei più piccoli, e essere così testimoni anche noi nel volto misericordioso di Dio. Buona giornata.